Salve a tutti friends, salvo su Supercorris Eccoci qua ragazzi, la domanda della settimana Effettivamente mi è arrivata questa domanda tramite messaggio e mi ha fatto riflettere Ovvero, se Sainz e Leclerc fossero in un altro team, cosa combinerebbero? Proviamo a rispondere, visto che la controprova non ce l'abbiamo Dato che non sono in un altro team, però possiamo cercare di intuire quali caratteristiche avrebbero E se fossero in coppia, sempre quindi compagni di squadra e se fossero separati Prendiamo ad esempio la Mercedes Facciamo finta che Leclerc fosse in Mercedes al posto di Hamilton Oppure Russell al posto di Sainz e viceversa Allora, come al solito per ripartire vi invito sempre a iscrivervi al canale A tutti i miei canali, lasciate un like sui miei social e aiutatemi a raccogliere fondi Se volete da donare in beneficenza, basta un euro, link di PayPal in descrizione Allora, Mercedes Siamo sicuri che Leclerc se fosse in Mercedes avrebbe ottenuto gli stessi punti di Lewis Hamilton Che nonostante l'ennesima stagione sotto tono di Mercedes Nonostante non abbia vinto gare, ha fatto tanti punti Hamilton è riuscito a portare Mercedes in alto Sta lottando con Alonso per il terzo posto nel Mondiale Piloti Che è un buon risultato contando il predominio Red Bull Ha fatto diversi punti È arrivato molto spesso davanti a Russell Ha fatto una grande stagione E in più, grandi errori non ha commessi Quindi ha massimizzato tutti i risultati Anche quando la macchina meritava un settimo posto È arrivato Leclerc al posto di Hamilton Eh, raga, ma... Io ho i miei dubbi che il Leclerc falloso che vediamo oggi Avrebbe fatto le stesse cose di Hamilton con la Mercedes Probabilmente Leclerc si sarebbe lamentato a oltranza della macchina Lo fa anche Hamilton, proprio la guida Probabilmente Leclerc quei tre errori sicuri in gara li avrebbe fatti Quei tre errori come li ha fatti molti di più in Ferrari Che gli avrebbero fatto ottenere sicuramente meno punti di Hamilton Poi Pagli li avrebbe potuti prendere pure Leclerc Avrebbe potuto fare le bolle che ha fatto una Hamilton pure di più Secondo me avrebbe meno punti Perché Hamilton ad oggi è molto più maturo di Leclerc È molto più riflessivo, non sbaglia mai Nel senso che non esce di pista, non rompe la macchina, non distrugge Arriva, arriva e prende i punti Quindi questa è la concretezza che ha un pilota maturo rispetto a un Leclerc Che dopo sei anni di Formula 1 maturo non lo è Perché se mi sbatte il primo giro due volte in una stagione E ti devi ritirare perdendo una marea di punti Non sei un pilota maturo Una volta può pure accadere Se lo fai ben due volte vuol dire che la maturità Se nel giro di qualifica sbatti continuamente Miami, Zandvoort, distruggi la macchina Non ti qualifichi in Q2, in Q3 Mi sembro lato, cazzo a Barcellona Ma no Porca miseria, tutto sto fenomeno Probabilmente non lo sei Hai dei limiti ad oggi Che sono quelli che predichiamo di Leclerc Se Sainz fosse al posto di Russell Ma anche diciamo al posto di Hamilton Io penso che Sainz lo stesso avrebbe meno punti di Hamilton È inutile girarci attorno Hamilton è più forte di Sainz ragazzi Hamilton è comunque un campione Sainz no Sainz è un grandissimo pilota È un ottimo secondo pilota Alle volte può fare le veci di un primo pilota Come le faceva un Rubens Barrichello Sainz non è uno che ti vince un mondiale Se non si vanno a concretizzare alcune situazioni Macchina competitiva e gli avversari fanno degli errori Sainz avrebbe meno punti di Hamilton Perché lo stesso Sainz quest'anno ha fatto degli errori gravi E non è che ne ha fatto uno e due Ricordiamo l'Australia Ricordiamo i track limits in Austria Ricordiamo Spa Ricordiamo la penalità a Miami di 5 secondi Ricordiamo Monaco Sainz ha fatto parecchi errori Certo non sono sempre dovuti solo da lui Però ragazzi oggi è chiaro che secondo me Sainz non avrebbe punti di un Hamilton Non avrebbe punti di Hamilton Avrebbe meno punti Così ragazzi è inevitabile Perché Hamilton ad oggi è un pilota Che ti porta sicuramente più bottino di punti Di un Carlos Sainz Purtroppo è la mera verità Quindi vedete Se i due piloti Ferrari fossero in Mercedes Secondo me nessuno dei due Avrebbe il bottino di punti di Hamilton Che volenti o non volenti È superiore Ad oggi è entrambi i piloti Ferrari E per storia è per quello che sta facendo oggi Se fossero insieme Sainz e Leclerc in Mercedes Beh io mi aspetto Un grande equilibrio Perché vedendo la Mercedes Come più o meno Hamilton e Russell La guidano con prestazioni simili Nella maggior parte delle gare Salvo poi Russell fare parecchi più errori di Hamilton Quest'anno Ma secondo me raga Starebbero là Ora potrebbe stare più avanti Leclerc di qualche punto Potrebbe stare più avanti Sainz Di qualche punto Starebbero là Probabilmente starebbe avanti Sainz Perché Sainz con una macchina Quale la Mercedes Di cui si lamenterebbero tutti e due piloti Perché è una macchina Non è un'auto vincente Sainz potrebbe stare avanti Perché come al solito Si adeva un po' di più alla situazione Sfruttandola al meglio Leclerc avrebbe fatto qualche errore di più Ma mi aspetto una classifica Simile a quella di oggi Con più punti Perché la Mercedes È più competitiva di Ferrari Nell'arco della stagione Quindi Questo penso io Vogliamo fare un altro esempio Di che possiamo parlare Vogliamo parlare di Red Bull Pensando se fossero il Red Bull Allora Leclerc Se fossero il Red Bull Al posto di Verstappen Dove sarebbe oggi? Sarebbe prima in classifica Chiaramente ragazzi Non si transige Sarebbe primo Sarebbe avanti a Perez Abbastanza Vincerebbe il Mondiale Portiamo da questo presupposto Cosa cambierebbe però Rispetto a Verstappen? Che Verstappen ha vinto Quanto è? 12 gare? Totali? Leclerc no Leclerc avrebbe vinto 7-8 E Perez magari lo avrebbe battuto più volte O magari altri avversari Avrebbero vinto diverse gare Perché magari Leclerc Un paio di gare L'avrebbe buttata al vento lo stesso Su un paio di incidenti Di uscite Che l'avrebbero messo fuori gara L'avrebbe fatta lo stesso Ragazzi come l'ha fatto con la Ferrari L'anno scorso Che era una macchina buona Magari col suo modo di guidare Molto aggressivo Avrebbe spaccato pure qualche motore Dato che lui abbiamo visto Parecchie volte E' stato duro con la macchina E poi ha avuto problemi tecnici Ricordi in Australia L'anno scorso Quando aveva vinto la gara Ma neanche a metà gara Si ritirava Verstappen Dopo una ventina di giri Non mi ricordo neanche E lui si incoccia a tirare E dopo di quella gara là Distrugge tutti i motori Quindi Leclerc Sarebbe primo Vincerebbe questo mondiale Sì Però con meno margine Rispetto a un Verstappen Sainz al posto di Verstappen Eh Sì Secondo me pure Sainz Vincerebbe il mondiale Farebbe ancora meno vittorie Di Leclerc Però Sainz sarebbe più costante Quindi magari In un arco di una stagione Leclerc ti farebbe più vittorie Di Sainz Con una Red Bull Quindi magari mettiamo Facciamo un esempio Con questa Red Bull Leclerc in 22 gare Ne vincerebbe 13-14 Con Perez Che ne vincerebbe 4-5 E qualche altro team Che qualche gara Se la sarebbe vinta Perché capite la gara Dove Leclerc Sarebbe uscito di pista Perez sta dietro Avrebbe vinto magari Una gara a Ston Martin Una gara a Mercedes Una a Ferrari Sainz vincerebbe il mondiale Sì Perché per me oggi Sainz è meglio di Perez È evidente Perez è un pilota Abbastanza mediocre Che anche con una macchina Eccezionale fa fatica Per quanto possa essere Diversa da quella di Verstappen Comunque è molto superiore Alla concorrenza Sainz magari ti vincerebbe Il mondiale Con 12 vittorie Però molti più risultati A podio magari Ti farebbe 12 vittorie E 10 podio Ti farebbe Sainz Sbagliando di meno Magari Sainz Ti riuscirebbe a fare La stagione Sempre a podio Senza sbagliare Fare gravi errori Mai Però vincendo Molto meno Di un potenziale Leclerc Quello farebbe Sainz Perché purtroppo A livello di velocità Pura Vi ripeto Per la centomillesima Volta Non sarebbe efficace Come Leclerc Sainz sarebbe Più continuo Più costante Nei risultati Meno veloce Però comunque Vincerebbe il mondiale E batterebbe Perez Secondo me Sainz Messo in una Red Bull Al posto di Verstappen Tutte e due Nello stesso team Ragazzi Parliamoci chiaramente Con la macchina competitiva Tutta la stagione Eccezionale Secondo me Leclerc Vincerebbe il mondiale Su Sainz Stile Rosberg Hamilton 2014 Lo vince Leclerc Alla fine Prende anche Un po' di margine Però Leclerc Sarebbe più forte Di Sainz In ambito vittoria Magari in 22 gare Te ne vincerebbe 13 Leclerc E 7 Sainz Sainz Terrebbe Botta Per il mondiale Fino alla fine Lo perderebbe Molto probabilmente Per il discorso Che Leclerc Anche con Sainz E con la Red Bull Sotto il culo Ammesse non concesso Con due vetture uguali Non come accade ora Secondo me La differenza sarebbe Che Leclerc Vincerebbe più gare Ma farebbe qualche errore Perdendo alcune gare Sainz Vincerebbe Meno gare Ma farebbe Più risultati In zona punti A podio Un po' come faceva Rosberg Che vinceva meno Di Hamilton A parte proprio il 2016 Però si teneva Agganciato al treno mondiale Perché poi Alle volte Era più costante Nei piazzamenti Quello farebbe Secondo me Sainz Vincerebbe Leclerc Sì Perché con una macchina top Comunque La velocità maggiore Di Leclerc Potrebbe avere la meglio E non è certo Potrebbe vincere Anche Sainz Però Secondo me Avrebbe qualche chance In più Leclerc Però comunque Facendo degli errori E facendosi Che Sainz Rimanesse Agganciato al mondiale Rimarrebbe Agganciato al mondiale Grazie a più costanza Questo è quello Che penso io Di questi due piloti Se fossero un altro team Fatemi sapere Che ne pensate Ci vediamo Nei prossimi video Oh 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 oh